Alla ricerca del Supremo. Non è il titolo di un romanzo, ma il racconto dettagliato e avvincente di chi quella ricerca forse è nata, la condotta è portata a termine. Si tratta dell'ex comandante del raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri di Reggio, il colonnello Valerio Giardina. Ieri l'ufficiale dei Carabinieri ha deposto in aula come testimone del processo meta il procedimento contro il gota dell'Andrangheta. Il colonnello Giardina ha ricostruito per filo e per segno tutti retroscena ed i momenti decisivi per arrivare alla cattura di quello che è stato per 18 anni il super latitante della malavita organizzata a Reggina, non per nulla il soprannome Supremo, arrestato nel febbraio del 2008. L'operazione che ha messo le manette a Pasquale Condello è il culmine di un progetto iniziato dieci anni prima, organizzato dalla DDA di Reggio e reclamato dal generale dei Carabinieri, Gian Paolo Ganzer. Le indagini di investigatori inquirenti si erano interrotte, non è ben chiaro il perché, nel 2001. Per poi riprendere il piano iniziale nel 2006, il nuovo inizio si ebbe con l'individuazione di una casa ad archi. Dapprima dimora di Condello e famiglia, poi confiscata, poi di nuovo nella disponibilità dei Condello ed in via di ristrutturazione, poi definitivamente sottratta la famiglia dell'atitante e affidata al comune di Reggio. Una vicenda un po' intricata, insomma, che però segnò la ripresa della caccia alla primula rossa dell'Andrangheta, perché lo sfratto dei familiari del boss permise un più facile controllo degli spostamenti della moglie, Maria Morabito, del genero Giovanni Barillà e di altri componenti della famiglia di Pasquale Condello. Tanto significativo quanto decisivo è l'episodio del rilevatore satellitare, un dispositivo GPS minuscolo piazzato dagli investigatori proprio nel casco del genero, che si spostava quasi sempre in moto. Seguire passo passo i movimenti dei più vicini al Supremo, le loro frequentazioni, le loro abitudini, anche rovistare nei loro rifiuti, ha portato alla localizzazione dell'alloggio di Pasquale Condello, poco fuori città, a Pellaro, in via Felici. Il racconto dell'ex comandante dei ROS poi si carica di appagamento quando dice della conduzione senza intoppi dell'operazione di arresto del superlatitante avvenuta dopo due settimane di appostamenti intorno al nascondiglio di Pasquale Condello, lì già da quattro anni almeno. Un lavoro di intelligence che dopo 18 anni di pazienza e qualche errore, come ammesso dallo stesso colonnello Giardina, pose fine alla latitanza del Supremo dell'Andrangheta Regina.